La priscatola che abbiamo portato oggi non basta, qui serve la fiamma ossidrica, serve che il Movimento 5 Stelle entri in tutte le posizioni di controllo e verifica dove si decide, dove c'è la stanza dei bottoni. Ecco come inizia la nuova stagione del Consiglio regionale del Lazio. Sono agguerriti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle alla Pisana, non hanno neppure fatto in tempo a farsi mortalare con la priscatola all'inizio della seduta, che alla fine la delusione prende il sopravvento sull'umorismo. La questione è quella della mancata rappresentanza del proprio movimento nell'ufficio di presidenza che è stato nominato oggi. Leodori, PD presidente, vicepresidenti, Valeriani per la maggioranza e Storace per le opposizioni e non è andato nulla ai grillini e loro annunciano di ricorrere al Tar. Lasciarci fuori dall'ufficio di presidenza è un segnale chiaro di come questo Consiglio fa vecchia politica e questo è minoranza tagliata fuori dall'ufficio di presidenza. Il Movimento 5 Stelle parla di vecchia politica eppure il presidente Zingaretti nel suo discorso parla di un tempo della buona politica. Un Consiglio regionale che metta sul centro della sua azione il tema della sobrietà e della responsabilità. La crisi sociale ed economica che ha travolto la nostra comunità e l'inadeguatezza delle risposte finora avanzate in Italia per contrastarla hanno colpito duramente il rapporto tra cittadini e istituzioni. Tutti insieme dobbiamo contrapporre a questo rischio, a questo punto, il tempo della buona politica.